La disavventura di Doc «Adesso la guerra durerà almeno fino alla prossima primavera», disse il dottor Blythe quando fu chiaro che la battaglia dell'Esna si era tramutata in una situazione di stallo. Rilla stava mormorando, quattro dritti e un rovescio, mentre dondolava con un piede la culla del bambino. Il dottor Morgan disapprovava le culle, ma Susan no e valeva la pena di fare qualche sacrificio per tenerla di buon umore. Nel sentire suo padre posò il lavoro a maglia e disse «Ma come faremo a sopportare questa situazione così a lungo?». Poi riprese il calzino a cui stava lavorando e proseguì. La rilla di due mesi prima sarebbe probabilmente corsa a piangere nella valle dell'Arcobaleno. La signorina Oliver sospirò e la signora Blythe si torse le mani per un istante. Poi Susan disse bruscamente «Tiriamoci su le maniche e diamoci da fare! Andiamo avanti come sempre, non è questo il motto degli inglesi, signora dottora?» Beh, ho deciso di farlo mio e non credo che ce ne sia uno migliore. Oggi, per esempio, farò il solito budino che faccio sempre di sabato. È una ricetta piuttosto complicata, ma meglio così, mi terrà la mente occupata. Devo sempre ricordare che a comando dell'esercito britannico c'è Kitchener e che anche quel Geoffreno se la sta gavando male per essere un francese. Poi oggi voglio spedire una torta al piccolo gem e finire a quel paio di calze. Faccio un calzino al giorno. La vecchia signora Mead di Harbour Heed in una giornata ne fa un paio e mezzo, ma non fa nient'altro per trasferuzzare. Sa, signora dottora cara, è costretta a letto da anni e si preoccupava sempre di non potersi rendere utile e di essere un peso. Diceva che sarebbe stato meglio morire e togliersi di torno. Adesso mi hanno detto che Bella Arzilla è decisa a continuare a vivere perché finalmente c'è qualcosa che può fare. Lavora a maglia per i soldati dall'alba al tramonto. Persino la cugina Sofia è ripreso a sferruzzare. Ed è un bene, signora dottora, perché quando ha le mani occupate le vengono in mente meno discorsi patetici rispetto a quando le tiene in grembo. Pensa che l'anno prossimo ci ritroveremo tutti i tedeschi. Le ho risposto che nel mio caso ci vorrà ben più di un anno prima di rendermi uguale a quelli. Ha saputo che Rick McAllister si è arruolato, signora dottora? E dicono che anche Joe Milgrave voglia andare. Solo che ha paura che Luna Bafuta non gli conceda la mano di Miranda se lo fa. Luna dice che crederà alle storie che girano sulle atrocità tedesche quando le vedrà con i suoi occhi. E anche che è un bene che la cattedrale di Rengs sia stata distrutta perché era una cattedrale cattolica. Beh, io non sono una cattolica romana, signora dottora Cara. Sono nata presbiteriana e intendo rimanerlo finché campo, ma penso che i cattolici abbiano diritto ad avere le loro chiese, tanto quanto noi le nostre, e che i tedeschi non hanno motivo di distruggerle. «Pensi un po', signora dottora Cara», concluse drammaticamente Susan, «come ci sentiremo tutti se una bomba tedesca battesse il campanile della nostra chiesetta di Glenn? Sarebbe bruttissimo tanto quanto pensare che hanno fatto a pezzi la cattedrale di Rengs». Nel frattempo, in ogni angolo della terra, ragazzi ricchi e poveri, aristocratici e del popolo, bianchi e neri, stavano rispondendo alla chiamata del pifferaio. «Partirà anche il figlio di Billy Andrews, l'unico figlio di Jane, e il piccolo Jack di Diana», disse la signora Blythe. «Il figlio di Priscilla è partito dal Giappone e quello di Stella da Vancouver e anche i due ragazzi del reverendo Joe». «Filippa mi ha scritto che sono partiti subito, evidentemente non hanno ereditato la mia indecisione cronica». Gem dice che secondo lui partiranno presto e che non riuscirà a venirci a trovare prima perché avranno un preavviso di poche ore», disse il dottore passando la lettera a sua moglie. «Ma non è giusto», disse Susan indignata. «Il primo ministro non ha rispetto per i nostri sentimenti. Spedire quel benedetto ragazzo in Europa senza lasciarcelo salutare. Ah, se fossi in lei, caro dottore, scriverei una lettera ai giornali». «Forse è meglio così», disse la madre, delusa. «Non credo che riuscirei a sopportare di dirgli addio di nuovo. Adesso che so che la guerra non finirà presto come speravamo quando è partito. Oh, se solo... «Ma no, non voglio dirlo. Farò come Susan e Rilla», concluse la signora Blythe, riuscendo a sorridere. «E mi comporterò da eroina». «Siete tutte bravissime», disse il dottore. «Sono fiero delle mie donne. La mia piccola Rilla, il mio giglio di campo, sta mandando avanti a meraviglia la Croce Rossa giovanile e ha salvato una giovane vita canadese. Ben fatto, Rilla. Ma senti un po', «Rilla, figlia di Anna, come pensi di chiamare il tuo orfano di guerra?» «Sto aspettando di avere qualche notizia di Jim Anderson», disse Rilla. «Immagino che voglia decidere lui il nome di suo figlio». Ma le settimane d'autunno trascorsero una dopo l'altra senza che di Jim Anderson si sapesse nulla. Nessuno aveva più avuto notizie da quando si era imbarcato ad Halifax e a quanto pareva la sorte di sua moglie e di suo figlio non gli interessavano. Alla fine, Rilla decise di chiamare il bambino James. «E Susan?» propose di aggiungere anche Kitchener. E così James Kitchener Anderson si ritrovò con un nome ben più maestoso di quanto non fosse lui. Gli abitanti di Ingleside lo soprannominarono prontamente Jims, a parte Susan che si ostinava a chiamarlo soltanto Piccolo Kitchener. «Jims non è un nome da buon cristiano, signora dottora cara», diceva con aria di disapprovazione. «La cugina Sofia dice che è troppo impertinente e per una volta credo che abbia ragione, anche se non ho intenzione di farla felice dicendolo pubblicamente. Quanto al bambino in sé sta cominciando finalmente ad assumere sembianze umane e devo ammettere che Rilla è bravissima con lui, anche se non ci penso proprio a gonfiare il suo orgoglio dicendoglielo in faccia. «Signora dottora, penso che non dimenticherò mai la prima volta che l'ho visto dentro quella zuppiera avvolta in quella flanella tutta lacera. Eh, non succede spesso che Susan Baker rimanga senza parole, ma quella volta è andata proprio così e questo può stare certa. C'è stato un momento terribile in cui ho pensato di essere impazzita e di avere le visioni, poi ho pensato «No, le apparizioni di zuppiere non ho mai sentito parlare, perciò deve essere tutto vero» e mi sono ripresa. Quando ho sentito il dottore dire a Rilla che doveva prendersi cura lei del bambino, ho pensato che stesse scherzando. Non ho creduto neanche per un istante che potesse o volesse farlo, ma ha visto anche lei come sono andate le cose. Questa storia la sta facendo davvero crescere. Ciascuno di noi è in grado di fare qualsiasi cosa, signora dottora cara, se deve farla. E un giorno di quell'ottobre Susan ebbe un'ulteriore conferma di questa sua convinzione. Il dottore e sua moglie non c'erano e Rilla era al piano di sopra a sorvegliare Jims che faceva il riposino mentre infilava energicamente dritti e rovesci con i ferri da maglia. Susan era seduta in veranda a pulire i fagiolini aiutata dalla cugina Sofia. La pace e la tranquillità regnavano a Glenn. Il cielo era screziato di nuvole argente e luminose e la valle dell'arcobaleno era immersa nella lieve foschia rossastra dell'autunno. Il macchione di aceri sembrava un enorme cespuglio ardente e la siepe di rose canine intorno al cortile era una vera meraviglia dai colori tenui. Il mondo aveva un'aria pacifica e il cuore fedele di Susan per un istante dimenticò che la realtà era ben diversa. Nonostante avesse trascorso la maggior parte della notte precedente a pensare al piccolo gem che solcava l'Atlantico a bordo della grande flotta che stava trasportando l'esercito canadese al di là dell'oceano. Persino la cugina Sofia sembrava meno malinconica del solito e ammise che non c'era niente che non andasse in quella giornata e sebbene senza alcun dubbio sarebbe stata seguita dal cattivo tempo se non da un terribile temporale. Ah è tutto troppo calmo per durare visse la cugina e come a conferma delle sue affermazioni tutta un tratto alle loro spalle si udì un indicibile baccano. Era davvero impossibile descrivere il confuso miscuglio di colpi il rumore di ferraglia grida soffocate e ululati che proveniva dalla cucina cui si aggiungeva ogni tanto un vero e proprio schianto. Susan e la cugina Sofia si guardarono l'un l'altra con un certo disappunto. Ma che accidenti sta succedendo là dentro? Boccheggiò quest'ultima. Deve essere quel Hyde che alla fine è impazzito del tutto borbottò Susan me lo aspettavo. A quel punto Rilla uscì di corsa dalla porta laterale del salotto. Ma che succede? Non ne ho idea ma di sicuro è responsabile quella tua bestiaccia posseduta disse Susan non ti avvicinare adesso apro la porta e do una sbirciata. Ecco di nuovo le stoviglie l'ho sempre detto che quella bestia è un vero demonio mi sono certa. io credo che il gatto sia idrofobo disse solennemente la cugina Sofia una volta ho sentito di un gatto che è impazzito e ha morso tre persone e quelle sono morte in una maniera orribile sono diventate tutte nere come l'inchiostro. poco impressionata da quel racconto Susan aprì la porta e guardò all'interno della cucina il pavimento era disseminato di piatti in frantumi e pareva che la tragedia si fosse consumata sulla credenza dove Susan era solita disporre il suo piccolo esercito di pentole scintillanti un gatto correva in preda al panico per tutta la stanza con la testa incastrata in una vecchia lattina di salmone sfrecciava qua e là senza posa lanciando miagolì che sembravano in precazioni sbattendo la lattina contro qualsiasi cosa gli capitasse a tiro oppure tentando inutilmente di togliersela di dosso con le zampe era uno spettacolo così divertente che Rilla scoppiò a ridere e Susan le lanciò un'occhiataccia non ci vedo nulla da ridere quella bestia ha rotto la scodella azzurra che tua madre ha portato da Green Gables quando si è sposata direi che è un bel danno ma il problema ora è come facciamo a togliere ad Hyde quell'affare non ti azzardare a toccarlo esclamò la cugina Sofia eccitata da tutta quell'animazione rischi di morire chiudi a chiave la cucina e manda chiamare Albert non è mia abitudine chiamare Albert quando c'è qualche difficoltà qui in casa disse Susan orgogliosa per quella bestia è una vera tortura e qualunque sia la mia opinione su di lui non sopporto di vederlo soffrire annontanati Rilla pensa al piccolo Kitchener e io vedrò cosa riesco a fare Susan entrò audacemente in cucina prese un vecchio impermeabile del dottore dopo una caccia indiavolata fatta di scatti e tentativi andati a vuoto riuscì infine a catturare gatto e lattina che tagliò con l'aiuto di una priscatole mentre Rilla teneva fermo l'animale che si agitava ancora avvolto nell'impermeabile nessuno Ingleside aveva mai udito suoni come quelli emessi da Doc nel corso dell'operazione Susan aveva il terrore che si sentissero fino alla casa dei Crawford e che loro pensassero che stavano torturando a morte quella creatura quando finalmente fu libero Doc era furioso e indignato evidentemente pensava che tutta quella faccenda fosse stata un piano per umiliarlo lanciò a Susan un'occhiata minacciosa a modo di ringraziamento e corse fuori dalla cucina per rifugiarsi nella piccola giungla della siepe di rose canine dove restò imbronciato per il resto della giornata Susan raccolse mestamente i cocci dei suoi piatti nemmeno i tedeschi avrebbero potuto creare più scompiglio disse amaramente ma se qui si ostinano a tenere in casa un animale diabolico come quello nonostante tutti gli avvertimenti che hanno avuto non possono lamentarsi se poi le scodelle regalo di nozze finiscono in pezzi stiamo veramente toccando il fondo se una donna onesta non può lasciare incustodita la sua cucina per pochi minuti senza vedersela devastare da un gatto malefico con la testa incastrata in una lattina di salmone le preoccupazioni di Rilla passò anche ottobre trascinandosi dietro le giornate uggiose di novembre e dicembre infuriare degli eserciti contendenti sconvolse il mondo Anversa cadde la Turchia dichiarò guerra la valorosa piccola Serbia radunò le forze e assestò un duro colpo al suo oppressore e nella tranquilla Glen St. Mary circondata dalle colline a migliaia di chilometri di distanza tanti cuori sobbalzarono di speranza e di paura per le notizie che arrivavano ogni giorno solo qualche mese fa disse la signorina Oliver pensavamo e parlavamo di ciò che accadeva a Glen St. Mary adesso invece discutiamo di tattica militare e intreghi diplomatici il grande evento di ogni giornata era l'arrivo della posta persino Susan ammise che non riusciva a lavorare come si deve finché non sentiva il calesse del postino passare sopra il ponticello tra la stazione e il villaggio e finché qualcuno non andava a prendere i giornali e li riportava a casa l'unica cosa che riesco a fare è lavorare a maglia come una matta finché non arrivano signora dottora cara la maglia è una di quelle cose che puoi fare sempre anche se hai il cuore che batte all'impazzata e la bocca dello stomaco chiusa e i pensieri che se ne vanno per conto loro poi appena leggo i titoli buoni o cattivi che siano mi calmo e riesco a dedicarmi alle mie faccende peccato però che la posta arrivi proprio all'ora di pranzo il governo potrebbe scogitare un sistema migliore comunque l'offensiva su Calais è andata a finire male io ne ero certa il Kaiser non festeggerà il Natale a Londra quest'anno no signore lo sa signora dottora proseguì Susan abbassando la voce come se stesse per rivelare qualche informazione sconcertante ho saputo da una buona fonte altrimenti non glielo riferirei visto che riguarda un pastore che il reverendo Arnold va a Charlottown tutte le settimane per fare un bagno turco mi serve per i reumatismi riesce a crederci che faccia una cosa del genere proprio mentre siamo in guerra con la Turchia uno dei suoi diaconi dice da sempre che il signor Arnold non è ferratissimo in teologia e io comincio a pensare che ci sia motivo di crederci beh questo pomeriggio devo darmi da fare impacchettare il dolce di Natale per il piccolo Gem spero che potrà gustarselo e che nel frattempo non affoghi nel fango Gem era accampato nella piana di Salisbury in Inghilterra e nonostante l'onipresente fango scriveva lettere allegre e vivaci Walter invece era la Redmond e le lettere che scriveva a Rilla all'opposto non erano allegre affatto Rilla le apriva sempre attanagliata dal timore che lui scrivesse di essersi arruolato e la sua infelicità faceva star male anche lei avrebbe voluto abbracciarlo e confortarlo come aveva fatto quel giorno nella valle dell'arcobaleno e detestava chiunque fosse responsabile dell'infelicità di Walter alla fine ci andrà mormorò tristemente una sera che era da sola nella valle dell'arcobaleno a leggere una sua lettera alla fine ci andrà e io non ce la farò a sopportarlo Walter aveva scritto che qualcuno gli aveva spedito una lettera con dentro una piuma bianca il marchio dei codardi me la meritavo rilla ho pensato di appuntarmela addosso e proclamarmi di fronte a tutta la Redmond il codardo che so di essere i ragazzi del mio anno stanno partendo tutti ogni due o tre giorni se ne va qualcuno certe volte mi ero quasi deciso a farlo anche io ma poi mi sono immaginato mentre piantavo una baioneta nel corpo di un altro uomo il marito il fidanzato il figlio di qualcuna o magari il padre di un bambino piccolo e mi sono visto a terra ferito mutilato con la gola arida e senza nulla da bere su un campo freddo e umido circondato da uomini morenti o già morti e ho capito che non ce la farò mai come potrei affrontare la realtà se non riesco nemmeno a pensarci a volte desidero quasi non essere mai nato la vita mi è sempre sembrata una cosa meravigliosa adesso invece è diventata orribile rilla mia rilla se non fosse per le tue lettere le tue care luminose allegre divertenti buffe e fiduciose lettere penso che mi arrenderei e anche quelle di una è proprio una piccola roccia vero sotto la sua timidezza e malinconia si nasconde una donna meravigliosa elegante solida non hai il tuo talento per la scrittura umoristica ma qualcosa nelle sue lettere mi fa sentire come se dopo tutto fossi in grado di partire per il fronte anche se dura solo finché le leggo non che lei parli mai della mia partenza o mi suggerisca di andare e non è il tipo è più lo spirito di quelle lettere la personalità che trasmettono beh in ogni caso non posso andare hai un fratello e uno un amico che è un vero codardo oh quanto vorrei che Walter non scrivesse queste cose sospirò rilla mi fanno soffrire lui non è un codardo non lo è non lo è affatto si guardò intorno malinconica osservando la piccola valle boscosa e i solitari campi amaggese al di là di essa ogni cosa le ricordava Walter le foglie rosse che pendevano ancora dal cespuglio di rose selvatiche sopra un'ansa del ruscello con gli steli punteggiati di piccole perle della pioggerella che era caduta poco prima c'era una poesia di Walter che le descriveva il vento che sospirava e frusciava tra le felci marroni e gelate e portava il suo lamento più sommesso sulle acque del ruscello una volta Walter aveva detto che adorava la malinconia del vento autunnale nei giorni di novembre i vecchi alberi innamorati ancora intrecciati l'un l'altro in un fedele abbraccio e la dama bianca divenuta ormai un grande albero dai rami candidi che si stagliava splendido ed elegante contro il cielo grigio e vellutato era stato Walter a dare loro quei nomi tanto tempo prima e in novembre precedente passeggiando con lei e la signorina Oliver nella valle aveva guardato la dama priva di foglie e una giovane luna argentea che faceva capolino dietro i suoi rami e aveva detto una betulla bianca è come una bellissima fanciulla pagana che non ha mai dimenticato il paradiso terrestre e conosce il segreto dell'essere nudi e senza vergogna la signorina Oliver gli aveva detto devi scriverci una poesia Walter e lui l'aveva fatto e il giorno dopo gliel'aveva letta era una poesia breve piena di folletti in ogni verso oh come erano felici allora beh pensò Rilla alzandosi in piedi era ora di andare James stava per svegliarsi e lei doveva preparargli il pranzo e stirare i suoi abitini quella sera poi c'era la riunione della croce rossa giovanile lei doveva finire la sua borsa per il lavoro a maglia voleva avere la più bella di tutta l'associazione più bella persino di quella di Irene Howard perciò doveva tornare a casa e rimettersi al lavoro in quei giorni aveva sempre da fare dall'alba al tramonto quella scimmietta di James le portava via un sacco di tempo però stava crescendo su questo non c'era dubbio e anche il suo aspetto migliorava Rilla era quasi certa che non fosse soltanto una sua pia illusione a volte era molto orgogliosa di lui altre invece avrebbe voluto sculacciarlo però non lo baciava mai né desiderava farlo i tedeschi hanno preso l'Ötz oggi disse la signorina Oliver per una sera di dicembre mentre lei la signora Blythe e Susan erano occupate a cucire e a lavorare a maglia nell'accogliente salotto l'unico aspetto positivo di questa guerra è che sta crescendo notevolmente le mie conoscenze geografiche pur essendo un insegnante tre mesi fa non avevo idea che al mondo esistesse un posto di nome LÖtz se l'avessi sentito nominare non avrei saputo dire nulla a riguardo e nemmeno mi sarebbe importato molto adesso invece so tutto dimensioni posizione rilevanza militare ieri la notizia che i tedeschi l'hanno presa nel corso della seconda offensiva su Varsavia è stato un colpo al cuore mi sono svegliata nel bel mezzo della notte per quanto ero preoccupata non mi stupisce che i bambini piangano sempre quando si svegliano di notte in quelle ore l'animo si sente davvero oppresso e sembra che non ci sia niente di bello a questo mondo quando mi sveglio di notte non riesco a riaddormentarmi commentò Susan che stava leggendo e facendo la maglia allo stesso tempo penso qualche istante a come potrei torturare il Kaiser l'altra notte l'ho fritto nell'olio bollente e mi è stato di grande conforto perché stavo pensando di nuovo a quei poveri bambini belgi figuriamoci se il Kaiser fosse qui e avesse mal di schiena saresti la prima ad accorrere in suo soccorso con un flacone di unguento rise la signorina Oliver ah sì esclamò Susan offesa lo pensa davvero signorina Oliver altro che unguento gli rovescerei sopra della pece bollente e lo lascerei a coprirsi di vesciche ah sì farei proprio così può starne certa mal di schiena come no mi farà male tutto quanto prima che finisca quel che ha cominciato la Bibbia dice di amare anche i nostri nemici Susan disse solennemente il dottore beh i nostri sì certo ma non quelli di Re Giorgio caro dottore rispose Susan trionfante e fu così compiaciuta di aver messo a tacere il dottore che sorrise mentre puliva gli occhiali aveva sempre rifiutato di metterli prima ma adesso le servivano per leggere le notizie della guerra e non se ne faceva sfuggire una signorina Oliver sa dirmi come si pronunciano questi posti Mlava Bzura e Przemisl ma l'ultimo è un enigma che nessuno è ancora riuscito a risolvere Susan posso solo tirare e indovinare come fanno tutti questi nomi stranieri sono veramente inappropriati se volete la mia opinione disse Susan sprezzante immagino che austriaci e russi penserebbero lo stesso di nomi come Saskatchewan e Musco do Bois Susan disse la signorina Oliver i serbi comunque stanno facendo grandi cose ultimamente hanno ripreso Belgrado e hanno spedito quelle bestiace austriache sull'altra sponda del Danubio con una bella pulce nell'orecchio disse Susan sollevata chinandosi a esaminare una cartina dell'Europa orientale e indicando ogni località con il ferro da maglia per imprimersela meglio nella memoria tempo fa la cugina Sofia ha detto che la Serbia era finita ma io le ho risposto che esiste ancora una cosa chiamata provvidenza divina che lo si voglia credere oppure no qui dice che è stato un vero massacro per quanto fossero tutti stranieri signora dottora cara è terribile pensare che siano morti così tanti uomini già ce ne sono pochi in circolazione che siano morti Grazie a tutti